Antonello Stigliano, consigliere comunale del Partito Democratico in seno a Palazzo di Città. Antonello, come si è espresso a proposito di tasse il Partito Democratico? Nell'unico modo che era possibile, chiaramente abbiamo votato contro l'aumento delle tasse, contro la TASI. Era uno degli unici punti in comune tra noi e l'attuale sindaco Forte della campagna del 2015. Noi siamo rimasti fedeli al nostro programma, purtroppo dobbiamo rilevare che la maggioranza ha deciso di superarlo facendo pagare più tasse ai nostri cittadini. Una tassa che dovrà sicuramente o dovrebbe sicuramente alleggerire le tasche di molti commercianti? Purtroppo alleggerisce le tasche soprattutto dei commercianti e in cambio non dà proprio nulla. Io sfido i nostri concittadini, chiedo loro ma rispetto al 2014 il servizio è migliorato o è peggiorato? Io temo che a fronte di un servizio mediamente peggiorato, e i cassonetti pieni in questi giorni ce lo dimostrano, ci sia stato semplicemente l'ennesima stangata fiscale. Il bilancio comunale che è di circa 50 milioni di euro, 49 e qualche cosa, vede in 12 milioni e mezzo di euro il costo del servizio di raccolta dei rifiuti. Per cui praticamente un terzo del nostro bilancio viene poi assorbito proprio dall'immondizia. E' il caso di dirlo purtroppo. Non si tratta semplicemente di dare o no le buste come qualcuno banalizzando dice. Si tratta invece di controllare che l'appalto venga svolto correttamente. Io non me la prendo con l'impresa, ma devo richiamare all'ordine il comune. Con il nuovo appalto, quello che è stato portato a termine qualche settimana fa, può cambiare qualcosa in questa città da tutti i punti di vista? Per le modalità dell'appalto certamente cambierà qualcosa. E' previsto per esempio un metodo di raccolta che è il porta a porta, che certamente dovrà per forza di cose aumentare la percentuale della raccolta differenziata. La verità però è anche un'altra. A prescindere da chi sia la figura dell'appaltatore, se la politica svolgerà il proprio ruolo, certamente il servizio migliorerà. Se la politica continuerà a commettere gli stessi errori che ha commesso fino ad oggi, quel servizio, chiunque sia l'appaltatore, non potrà che, purtroppo lo dico tristemente, lo dico drammaticamente, non potrà che essere peggiore.